Capo politico, potere al popolo, prima! Capo politico, noi siamo il capo politico, io sono 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 il capo politico, io non sono un capo politico, sono solo una portavoce e non potrebbe essere altrimenti perché il nostro movimento è un movimento collettivo, la sua forza sono più di 100 assemblee territoriali, un programma scritto tutti insieme, è un'idea chiara nella testa, quella di voler ricostruire una vera democrazia, di ridare poteri al popolo. Grazie a tutti!